Ciao ragazzi, bentrovati con un nuovo video. Allora oggi di cosa parliamo? Oggi vi farò vedere un video sulla mia collezione di cofanetti ed edizioni normali di cartoni animati. Cartoni animati della Pixar, manga e cartoni che hanno segnato la mia infanzia. Tranne il cofanetto della Disney con i classici che vi avevo fatto già vedere in un nuovo video. Perché alla fine ragazzi, chi è che dice che i cartoni sono solo per bambini? I cartoni sono sia per bambini certamente, che poi ci sono dei cartoni, diciamo adesso fanno dei cartoni proprio per i bambini piccoli, ma i cartoni questi che vi farò vedere o altri sono anche per i grandi, anzi molti sono proprio per i grandi. Bene ragazzi, non perdiamo tempo e iniziamo subito con il primo cofanetto, con serie completa, con un cartone che ha segnato tantissimo la mia infanzia e penso la mia infanzia di molti di voi. Sto parlando di chi? Olly e Benji, ragazzi. Mitica serie, Olly il grandissimo attaccante e Benji il portiere. Allora, chi non ha visto questa serie, ragazzi, l'unica pecca, che è un'unica cosa che fa arrivare adesso, mi ricordo che forse ero, non lo so, in quinta elementare, in una puntata Olly ha fatto, ha iniziato a scartare degli avversari, e fino a che ha fatto un tiro e la palla è andata in rete penso che sono passati tre anni. Eh sì, perché quanto era lungo, quanto era lungo il campo, ma quanto è lungo, che ancora non si è capito. Comunque ragazzi, grandissima serie, Olly e Benji, e l'ho rivista piano piano in questi anni, me la sono rivista puntata dopo puntata. Merita sempre, è un posto praticamente sempre nel cuore, perché è una di quelle che vedevo da piccolo. Bene, andiamo avanti, altra serie fantastica con la mitica Pollon, la nostra combina guai. Allora, questa è un'edizione Yamato Video, edizione limitata, vedete, a mille coppie, questa è la 189, questo è il cofanetto, al suo interno contiene tutti i personaggi, vi ricordate la musichetta, il ballettino? Ecco qua, poi il cofanetto proprio riprende tutti i personaggi della serie, e poi contiene un bellissimo booklet. E praticamente qua sono contenuti su questo booklet tutti i personaggi della serie, e con una breve e rapida spiegazione. Vedete, la mitica Apollo, grandissimo Eros, Zeus, Apollo, Era, Afrodite, Poseidone, Dottor Ciaciaccia, e qui l'elenco con tutti i dischi e il nome degli episodi. Grande serie, anche questa mitica. Andiamo avanti. Andiamo avanti, un cofanetto, rapidamente, perché ve l'ho fatto vedere l'altro giorno, Lupin, che appena, per chi forse è perso il video dell'altro giorno, questa qui è la serie, la prima serie di Lupin III, quella mitica con lui con la giacca verde, ed è appena uscita l'edizione in Blu-ray, esisteva l'edizione in DVD, e adesso Yamato l'ha fatta uscire in Blu-ray. Speriamo che editi al più presto anche le altre serie. Andiamo avanti, proprio collegandoci a Lupin, il cofanetto, in questo caso Redbox. Redbox e cosa contiene? Se qui avevamo Lupin della prima stagione con la giacca verde, qui Redbox, giacca rossa. E questo cofanetto contiene tre film, sempre Blu-ray. La lampada di Aladino, la pietra della saggezza, e il mitico, mitico, il castello di Cagliostro. Solo che il castello di Cagliostro qui l'upera la giacca verde. Infatti non ho capito, Redbox, due giacca rossa, uno giacca verde. Va bene. Castello di Cagliostro, grandissimo film. Poi, andiamo avanti con un'altra serie che guardavo da piccolo, e da qui mi sono appassionato anche... adesso no, perché ormai è un po' scemata questa cosa andando avanti con gli anni. Ma quel periodo lì, che vedevo questa serie animata, mi ero appassionato dopo al wrestling, perché sto parlando dell'uomo tigre. Anche questo, grandissima serie. Questa è il Tiger Box 1, è il primo box. E anche questo l'ho rivisto, ho rivisto qualche puntata negli anni passati. E un po' di nostalgia, bellissimo. Andiamo avanti. Andiamo avanti con una serie dai creatori dei Simpsons, e sto parlando di chi? Futurama. Grandissima serie. Questo è un box edizione inglese, che contiene le quattro stagioni, le prime quattro, e questo box edizione inglese ha l'audio in italiano su tutte le quattro stagioni. E qui ricordiamo il mitico Fry, praticamente, che vive a New York e fa il pizzaiolo, e per un errore finisce per caso in una capsula criogenica e si risveglia nella New York degli anni 3000, e perciò incontra tutti gli altri personaggi e da qua si sviluppano le varie storie. È una grandissima serie, secondo me. Veramente bella, fatta bene. E vi consiglio, se avete la possibilità, anche questo cofanetto. Bene, andiamo avanti con... Aspettate un attimo con due serie, due serie manga. Allora, una, sto parlando di Ditknot, che ultimamente hanno fatto anche un film su Netflix, ma lasciamo perdere perché non è all'altezza come la serie. Serie animata, vedete? E in questa serie uno studente universitario, per chi non l'avesse visto, uno studente universitario trova questo quaderno, e questo quaderno è magico. Insomma, questo quaderno che cosa fa? Voi, basta pensare, scrivere il nome di una persona, e questa persona misteriosamente muore. Cioè, ragazzi, ma quando lo trovi questo quaderno qua, io lo finirei subito. E voi lo so, lo so, non dite di no perché anche voi ci mettereste su qualche nome. È vero? Sì, sì, lo so, lo so. Bene, ragazzi. Perciò, bel cofanetto, serie completa. Bene, andiamo avanti con un'altra serie che mi avevano consigliato, però sono sincero. Questa serie l'ho vista a metà. Anzi, forse un po' meno. Però mi intriga, è molto bella. E sto parlando di quest'altra serie manga, Prison School. Praticamente Prison School è ambientato tutto in un liceo femminile, ci sono solo femmine, ma a un certo punto questo istituto decide di far entrare nell'istituto dei maschi, solo che si presenterà solo in cinque. È il divieto che, però, le femmine non possono frequentare i maschi. I maschi vengono sorpresi a spiare le femmine e vengono messi non in una semplice punizione, ma proprio in prigione. Da questo è il titolo Prison School. Perché questa scuola, anche delle prigioni, da lì si sviluppa tutta la serie, e per adesso è molto carina. Perciò Prison School ve la consiglio. E poi, cioè, ragazzi, qua siamo... Cioè, ci siamo intesi, eh? Guardate che cos'è. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti con un po' di cofanetti vari. Allora, qui è il cofanetto della Dream Wars, che contiene Dragon Trailer 1 e 2, cartonato con dentro, appunto, i due film. Poi abbiamo... Ho preso questo cofanetto, ho visto qualche episodio, della Warner Bros., che contiene il meglio di 25 cartoni da collezione di DC Comics. Perciò tutti i personaggi che fanno parte di uno di DC Comics in collaborazione, appunto, creati dalla Warner Bros., qua c'è il meglio, il meglio in 25 episodi, 25 cartoni. Poi, vediamo un po' che cosa abbiamo qua. Abbiamo un cofanetto da collezione con i quattro film di Asterix il Gallico. Bellissimo. Perciò abbiamo Asterix il Gallico, Asterix il Seclopatra, Asterix e le 12 patriche, che secondo me è il migliore, fantastico, bellissimo, e Asterix e la Grande Guerra. Scusate. Andiamo avanti. Cofanetto della Disney, la trilogia di Aladdin. Perciò troveremo Aladdin, Ritorno di Jafar, e Aladdin e i Re dei Ladri. Cofanetto, cartonato, con neanche tre film. Andiamo avanti, Blu-ray 3D, Pirati. Bella storia. E andiamo avanti. Andiamo avanti, questo film, che mi ricordo che da piccolo ho letto tutti i fumetti, tutte le strisce, più che i fumetti del mitico Schultz, e sto parlando di Snoopy, Snoopy and Friends, Snoopy e Charlie Brown. E' fatto bene, rende bene, veramente, mi è piaciuto. Perciò lo consiglio a chi se lo fosse perso al cinema o non l'avesse visto. Poi andiamo avanti. Altro cofanetto, il primo, mi ha fatto sbellicare dalle risate qua, contiene due film, ma è uscito anche il terzo. Cofanetto della Dream World con Kung Fu Panda Collection. Cioè, a me fa ridere già solo così. Comunque, molto bello, qui, ripeto, contiene solamente i primi due. Che poi è uscito anche il terzo. Ma andiamo avanti. Un altro cofanetto con un film, edizione sempre Dream World, edizione Sleep, i Cruze. Allora, pensavo meglio, ma non mi è dispiaciuto. E' carino, fatto bene, comunque. Andiamo avanti con un film che ho preso 3D. L'ho preso più per, anche qui, per un senso, un ricordo di nostalgia. Perché vedevo la serie animata, hanno fatto il film, loro sono fatti bene. La storia, prendetela per quello che è, sto parlando dell'Orso Yogi, edizione 3D. Bene, non perdiamo tempo, andiamo avanti con altri cofanetti. In questo caso, sto parlando di un cofanetto della Universal, che contiene, eccolo qua, 3 perle, secondo me. Sing, Petz e i Minions, il primo. Cioè, cofanetto, vedete, con tutti e tre. E praticamente, secondo me, vanno vissi tutti e tre. Belli, 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 belli. Sing è l'ultimo che ho visto, fantastico, veramente, ragazzi. Andiamo avanti. Altro cofanetto, legandosi sempre a questo di prima, Illumination, che è questo qua. Eccolo qui, Illumination Presenta 3 Film Collection. Illumination fa parte del gruppo Universal, vedete? E questo qua contiene la saga di Cattivissime 1, Cattivissime 1, Cattivissime 2 e Cattivissime 3. Molto bello anche questo cofanetto. Andiamo avanti, andiamo avanti con un film, un cartone, diciamo, che, insomma, non è proprio questo, faccio il discorso che ho fatto all'inizio. Certi tipi di cartoni, uno perché è un cartone, non è che sono proprio per piccoli. E questo ne è proprio l'esempio. Sto parlando di Coraline. Edizione con la copertina lenticolare. Contiene il 3D, perciò Coraline. E per collegarmi sempre a questo qui, c'è il cofanetto della Laika. Laika completa e contiene, sono 4 film, vedete il cofanetto. Contiene Coraline, ma questa è l'edizione normale. Paranorman, Boxstroll e Cubo. Mi manca da vedere Cubo perché non l'ho ancora visto, perciò non posso dare un giudizio. Bellissimo, anche questo cofanetto. Bene, ragazzi, passiamo all'ultimo mega cofanetto, con due steelbooks e una slipcover a parte. E sto parlando di chi? Sto parlando della Disney Pixar. Grandissimi, secondo me. Hanno fatto delle piccole perre, delle chicche veramente fantastiche. Allora, vi faccio vedere innanzitutto il box. Eccolo qui. Questo è il cofanetto della Disney Pixar Collection. E su ogni parte del box vedete dei personaggi che hanno sviluppato loro. Qui possiamo vedere i due personaggi di Toy. Nemo, Wall-E, qui Ribelle, Cars, Ratatouille, Incredibili, Up. Cars, Cars, vedete. Sopra è così. E il box con i laterali. E dietro, aperto, con in bella mostra, tutti i film. Perciò abbiamo, vedete, si parte da qua in ordine, io l'ho messo perché dietro sul fondo ci sono le schede di tutti i film. Io l'ho messo giustamente in ordine cronologico d'uscita. Perciò abbiamo Toy, Toy Story 1, Bugs Live, Toy Story 2, Monster & Company, La ricerca di Nemo, Incredibili, Cars, Ratatouille, Wall-E, Up, Toy Story 3, Cars 2, Ribelle e Monster University. Sono praticamente, dovrebbero essere 16, 3, 6, 9, 12, 13, 14, scusate, 14. Perciò un box composto da 14 film. Molto bello, tra l'altro, questo cofanetto. E andiamo avanti, sempre con i cartoni film della Pixar. Abbiamo Inside Out, Steelbook. Molto bello il rilievo. Poi abbiamo, alla ricerca di Dory, Sleep Cover. E infine, Coco, Steelbook. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un mi piace. Per chi non l'avesse fatto, qua sotto, schiacciate e iscrivetevi al mio canale. E noi ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao ragazzi, buona serata.